Hanno preso il via nel fine settimana del 3-4 ottobre e continueranno per tutto il mese gli appuntamenti di Ottobre con Gusto al centro commerciale Le Rondinelle. Ascoltiamo i nostri microfoni Gian Pietro Chiarini, presidente del consorzio Operatori Rondinelle. Quest'anno, come diceva prima, il nostro valente presentatore ci sarà una serie di presentatori di prodotti importanti. Partiamo col formaggio, è logico partire con questo, perché poi dalla domenica successiva c'è Franciacorta in bianco. Per riuscire a dare anche un discorso, l'abbiamo già fatto in primavera con Esplorando, per riuscire a dare anche un aspetto culturale a quello che è il prodotto locale. Riuscire a dimostrare quanto può far bene consumare determinati prodotti se fatto in maniera giusta, se fatto in maniera coerente. Perfino, e voglio anticipare quello che sarà l'ultima domenica, avremo qua Massimiliano Rosolino, che è un campione, diciamo, dallo sport, per dimostrare appunto questa attinenza tra il mangiare bene e il vivere anche sano. E questo è una cosa molto importante, un messaggio da lanciare. Non poteva che essere così. Noi abbiamo al nostro interno la referenza più importante della Rondinelle, che è l'ipermercato Oceano. Sappiamo per certo che, nonostante il nome straniero, nonostante il nome Oceano, però si fa piacere questo binomio che adesso state facendo con i prodotti, diciamo, d'oltre alte, è una delle insegne che ha il maggior numero di prodotti italiani e locali all'interno delle proprie corsie. E ci saranno queste sfide all'interno del centro Comentale Rondinelle, con tanto di giudizio finale, per vedere come la nostra clientela riesce a tradurre quanto detto, quanto presentato, quanto insegnato loro in un qualcosa che poi è pratico. Questo è un po' il discorso di Ottobre con gusto.